A partire dalla prossima settimana avrei inizio la nuova fase della campagna dedicata alla vaccinazione in arrivo oltre al Pfizer e Moderna AstraZeneca 15.000 dosi per gli under 55 di alcune categorie indicate come prioritarie partendo dal mondo della scuola, dell'università e dal sistema delle forze dell'ordine e delle forze armate. Gestione vaccinazione critica sotto vari aspetti partendo dalla comunicazione del governatore Gianni i commenti poi delle varie forze politiche. In questo momento quindi la Toscana sta sviluppando tre linee di vaccinazioni con Pfizer e Moderna la vaccinazione è in corso per quanto riguarda il personale sanitario e gli anziani dell'RSA e siamo arrivati a circa 160.000 dosi somministrate. La seconda linea sarà quella che attraverso i medici di famiglia ci vedrà da sabato San Valentino somministrare attraverso gli ambulatori e la decisiva collaborazione con i medici di famiglia dei farmacisti quelle che sono ulteriori dosi di vaccini Pfizer e Moderna e la terza linea di vaccinazione è quella che arrivando oggi i vaccini da giovedì sera potremo attivare per gli insegnanti e le altre categorie previste. Io spero che possiamo arrivare presto ad avere dosi di vaccino che siano pari alla nostra capacità di somministrare, alla macchina organizzativa, perché io ho bisogno di sentire che arrivino dosi sufficienti a creare progressivamente una immunità di gregge che possa metterci a riparo e costituire la barriera per quella che è la pandemia. Naturalmente l'organizzazione nostra c'è e dimostra i suoi risultati. Tutto sta nell'avere le dosi di vaccino. Destinare fin da subito il più possibile Pfizer e Moderna alla popolazione anziana. Questo ovviamente è chiaro ritarderà i tempi che c'eravamo immaginati nella vaccinazione degli ultriottantenni, però intanto concentriamoci perché tutte le dosi che arrivano siano impiegate in maniera ottimale per i cittadini più critici. Il dato di AstraZeneca noi speriamo anche che nelle prossime settimane possa essere superato perché sappiamo che per ora c'è una carenza di indagine, non un'indagine che dice che non si può usare sugli ultra 55 anni e speriamo che anche questo sia colmato nelle prossime settimane. Quando arrivano i vaccini sono sempre grandi opportunità, lo sono a vantaggio delle persone che hanno più di 80 anni e ringraziamo fin d'ora i medici di famiglia per l'operazione che faranno. Lo sono per tutte le persone che hanno bisogno di essere vaccinati, soprattutto per le categorie che sono più esposte. A me ha fatto molto piacere vedere che siano gli insegnanti, per esempio una di quelle categorie che prima di altre verrà vaccinata e come questo ogni altra forza, tutte le forze dell'ordine, tutte le persone che sono esposte sia del sistema sanitario che del socio sanitario e tante altre persone che beneficeranno dei vaccini. È un evento che era imprevedibile per quanto riguarda la dinamica della scienza. Quindi portiamo rispetto a chi dovrà organizzare la campagna di vaccinazione, augurandosi ovviamente che possa essere fatta in maniera più celere possibile. C'è anche un certo pressappochismo nella idea di come procedere nella vaccinazione, perché i medici di famiglia mi hanno appena detto, non più tardi di ieri, che non sanno come procedere e addirittura sembrerebbe che i vaccini a loro destinati per la vaccinazione degli over 80 siano della Pfizer. Quindi i più difficili da maneggiare, poiché hanno ovviamente la necessità di stare a meno 80. Credo che quindi i tempi si allungheranno. È ottimistico pensare a una seconda fase di inizio della prossima settimana. Credo che l'importante sia ancora mantenere un assoluto distanziamento, il gel, la mascherina e sperare che si possa quanto prima ottemperare a quanto tutti auspichiamo. Naturalmente tutto finalizzato all'immunità di gregge. Io insisto che questo piano vaccinale, così come è stato declinato dalla regione toscana, ha molta confusione in sé. Ci sono stati dei problemi in diverse province e non soltanto legati alla fornitura della Pfizer che è stata rallentata, pure anche lì poteva essere trovato un sistema, un rimedio, producendo l'improprio grazie all'articolo 31, come la mozione che avevamo presentato, ma di fatto nessuno ha voluto discuterla. La verità è che adesso continuiamo ad andare abbastanza alla cieca, con molto disordine e non vedo questa giunta attenta e soprattutto non la vedo in grado di risolvere i problemi. Ci sono sicuramente delle persone che hanno necessità in questo momento di essere urgentemente vaccinate, ma non le vedo mettere nell'ordine delle priorità. Ci sono anche molte segnalazioni preoccupanti riguardo l'utilizzo dei vaccini. Pensiamo a quelli che hanno ricevuto la dose, delle dosi che dovranno essere per sei persone, sei vaccini, e invece sono diventate sette. Qui ci sono delle domande importanti da fare non solo alla Giunta, ma anche a tutto il sistema sanitario che lo sta organizzando. Non siamo assolutamente contenti della risposta, lo abbiamo detto in maniera molto chiara in aula, perché ci sono ancora tantissime lacune sul piano vaccinale. La prima è che i vaccini sono troppo pochi per le esigenze dell'Italia e in particolare della nostra regione. La seconda è che c'è tantissima confusione su chi si potrà vaccinare, perché si possono vaccinare le forze dell'ordine e i servizi essenziali. Quali sono i servizi essenziali? Servizi essenziali sono i guidatori, per esempio, del trasporto pubblico? Punto interrogativo. Ancora le linee guida non ci sono. E poi esiste una fascia, che è una fascia assolutamente scoperta, perché il vaccino si fa fino ai 55 anni e poi che cosa succede? Quindi c'è una fascia che è assolutamente scoperta, le dosi sono troppo poche, i centri non si sa ancora quali sono, i medici di base dovranno chiamare gli ultraottantenni, ma ci domandiamo come faranno a chiamarli, dove si vaccineranno gli ultraottantenni? Cioè gli interrogativi sono ancora troppi, le speranze sono ancora disattese e gli italiani e i toscani che aspettano un vaccino sono ancora esageratamente troppi per dare una risposta efficace all'emergenza sanitaria e soprattutto perché se non vacciniamo in maniera veloce e rapida gli italiani non si potrà contrastare e dare una risposta seria alla crisi economica, che in questo momento ci preoccupa tantissimo. Seduta solenne del Consiglio regionale in occasione del giorno del ricordo, giorno promosso per la prima volta 16 anni fa dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azzelo Ciampi per rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foive e dell'esodo dalle loro terre degli strigliani, fiumane e dalmati nel secondo dopoguerra e dalla più complessa vicenda del confine orientale. La seduta è stata presenziata dal governatore della Toscana Eugenio Gianni, dal presidente del Consiglio Antonio Mazzeo, dal giornalista Fausto Biloslavo e lo storico Franco Cardini. Nota di giornata l'uscita della consigliera del Movimento 5 Stelle Galletti per l'intervento di Biloslavo perché, in polemica con la decisione di invitarlo, causa presunta appartenenza a movimenti di estrema destra. La scelta delle personalità di chi oggi interviene è stata condivisa in conferenza di programmazioni e lavori dove erano presenti. Mi pare strano che abbiano deciso di fare tutto questo. Io non entro nella polemica. Oggi, come diceva benissimo, il professor Cardini ringrazio davvero per la disponibilità e il tempo di attualizzare la memoria. In un tempo, in un momento in cui tutto corre veloce, la memoria è un dovere delle istituzioni. Ricordare vuol dire avere la capacità di saper leggere. C'è una differenza tra conoscere e capire. Noi abbiamo la necessità di formare, di insegnare. È un ruolo delle istituzioni, di far capire cos'è stato perché non accada mai più. È un tempo di creare ponti, non di alzare muri e barriere. Non è un derby tra due storie differenti. E sarebbe un errore leggere questa giornata in questa maniera. Oggi è raccontare una storia terribile, una storia che ha provocato tante vittime, una storia che è un pezzo integrante anche della nostra storia nazionale. Le parole di Mattarella, del presidente Mattarella, che ci dice che la memoria è il modo migliore per saper guardare al futuro. È esattamente lo spirito con cui noi vogliamo affrontare questa seduta solenne. Ci sono degli eventi storici che non devono essere dimenticati e soprattutto vanno inquadrati nella loro dimensione storica. Bisogna conoscere quello che è successo. Riguardo la partecipazione del giornalista, che sicuramente ha un grande passato alle sue spalle come giornalista di guerra, come per le inchieste che ha fatto, ma secondo me per la sua avvicinanza a certi ambienti della destra e ad alcuni salotti, non era la persona più adatta da scegliere oggi. In solidarietà con Ampi e con la consapevolezza che tutti gli eventi di ricordo e di memoria del nostro Paese devono essere liberati dalla politica. Per evitare ogni tipo di strumentalizzazione, il Movimento 5 Stelle oggi lascerà l'Aula. Occorre ricordare unitariamente, elevando i toni e scansando le polemiche, quello che mi sento di dire è di poi dare attuazione concreta a queste giornate. In questo senso ritengo opportuno condividere quella proposta di legge che vede primo firmatario il nostro segretario federale Matteo Salvini di revocare l'onoreficenza del Cavaliere di Gran Croce a Tito, che fu concesso dal Presidente della Repubblica Saragat. Tito che è il responsabile politico di questi fatti. Noi siamo l'ultima generazione che ha il privilegio di conoscere dal vivo i testimoni delle grandi pagine di storia del Novecento, dei grandi drammi del Novecento. Quindi su di noi pesa un doppio fardello, quello di recepire la memoria e trasmetterla, ma anche quella di essere coloro gli ultimi che hanno conosciuto direttamente i protagonisti di quelle pagine di storia e fare da tramite tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Le polemiche sono strumentali, fini a se stesse, ridicole, verso un personaggio che non devo certo difendere io per il curriculum straordinario che ha come professionista. È un giorno nel quale va resa dignità e giustizia ai morti delle foibe e a coloro che si trovarono oltre 300.000 esuli dalle loro terre, probabilmente senza nessuna colpa. È una cosa che ci sta alle spalle, ma che deve servire da monito per il futuro. Perché anche quella tragedia, come altre, fu determinata da ideologie nazionaliste, ideologie razziste, ideologie di persecuzione etnica, cose che purtroppo ci sono state anche recentemente ed è un virus che è ancora presente anche nei nostri paesi civili, se vogliamo, dell'Europa e ovviamente del mondo. È un virus che è più pericoloso del Covid, ma se il Covid si può e si sta combattendo con le mascherine o con un vaccino. Il vaccino contro queste ideologie è il vaccino del ricordo, è il vaccino della cultura, è il vaccino del dialogo, è il vaccino della tolleranza, è il vaccino di politiche che cercano di andare ad abbattere quelle che sono le differenze tra i popoli. A margine della seduta solenne, Antonio Mazzeo ha insegnato con il più alto riconoscimento del Consiglio regionale, il Pegaso, lo storico Franco Cardini, ancora un segno per invitare a volare alto e impegnarsi sempre e comunque nella ricerca della verità per un futuro di pace e giustizia. La storia non è affatto una scienza collezionistica che mette in fila le cose passate. La storia è una scienza che studia la genesi del presente e lo fa in funzione del futuro e che non serve tanto a distribuire le responsabilità o a decidere se Hitler era più cattivo di Stalin o se tutti e due messi insieme erano più o meno cattivi di Winston Churchill. La storia non ha questa funzione. La storia ha la funzione di comprendere, non nel senso di giustificare, che giustificare si può giustificare tutto. Naturalmente però quando succede qualcosa bisogna capire dall'interno perché è successo. L'unico modo per onorare adeguatamente i caduti dell'una, dell'altra parte e poi sono caduti e basta, sono morti e basta, sono vittime e basta, sta nell'impedire che questi orrori continuino a accadere. Attenzione, io ho 80 anni e per 75 dei miei anni ho visto passare davanti ai miei occhi le più nere infamie di cui non poteva essere chiamato Hitler responsabile. Il nostro dovere della memoria è un dovere civico, però deve cominciare a diventare un dovere concreto. Ma se le democrazie cominciano a non trattare i loro cittadini o i loro ospiti, migranti, esuli, quelli che sono come esseri umani, allora lì c'è qualche cosa che non va. E allora lì bisogna pacatamente, ognuno dal suo punto di vista, ognuno dalla sua parte politica, però bisogna pacatamente intervenire, intervenire in maniera energica, intervenire facendoci, facendo sentire anche la voce di quelli che ordinariamente in questo tempo di Twitter, dove tutti gridano e dicono quello che gli pare, però queste voci si continueranno a sentire. Grazie a tutti. Grazie a tutti.